Il Servizio Sociale del Comune di Silvia ha completato il censimento del cimitero che ha permesso di mappare e geolocalizzare tutte le aree cimiteriali. Grazie a questo lavoro è stato attivato il servizio Aldilap, un sistema informativo cimiteriale di ultima generazione accessibile tramite smartphone. Aldilap offrirà una serie di funzionalità pensate per migliorare le esigenze dei visitatori, dei familiari, dei defunti. Sono veramente felice di aver visto a compimento questo progetto iniziato da me circa due anni fa. Devo ringraziare l'assessore Beta Costantini che ha portato a termine e tutto lo staff nostro tecnico che ha portato a termine questa cosa, una funzione molto utile per i cittadini di Silvia. Quante persone non riescono a trovare alcuni parenti, scaricando l'app si mette il nome e arriva, ma non solo. Ci sono anche dei servizi, una persona che è lontana vuole far pulire la cappella, portare dei fiori, un cero o qualsiasi altra cosa, questo adesso è possibile. In più, il Comune ha avuto molto aggioramento da questa situazione, perché c'è stato un censimento di tutti i defunti, quindi è un dato molto importante e tecnico per mandare avanti il nostro cimitero. I familiari del defunto potranno gestire il profilo digitale del proprio caro, caricando biografie, foto, ricevere dediche da amici e conoscenti. Con questa applicazione si può entrare tramite l'app, si può individuare l'oculo, comunque la cappella di gentilizia riguardante appunto dove è il defunto, si può appunto accendere un cero o comunque fare un piccolo pensierino, si può entrare e diventare amministratore, quindi può essere lo stesso, diciamo, un parente che si prende carico, diventa amministratore, può caricare una foto e quindi ci può fare tante cose. Poi comunque ci saranno dei QR code al cimitero del Comune di Silvi e lì comunque ci sono dei manutentori che potranno sicuramente, per chi ha difficoltà, chi non è riuscito tramite un parente o comunque non si è preoccupato di venire in Comune e chiedere come fare, appunto poter essere facilitato l'accesso e a capire il funzionamento dell'app.